Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come invertire il senso di rotazione dei motori del nostro drone FPV. Per poter volare è necessario che il verso con il quale girano i motori sia impostato in maniera corretta. Fate riferimento al firmware del vostro flight controller per conoscere la direzione giusta. Per quanto riguarda Betaflight, questi due motori devono girare in senso orario e questi due devono girare in senso anti-orario. Se anche solo uno dei motori gira nel verso sbagliato, inevitabilmente il quad si ribalterà appena daremo gas. Per cambiare la rotazione dei motori abbiamo due possibilità. La prima è invertire due cavi motore, la seconda è invertire il senso di rotazione direttamente dal software degli ESC. Ho parlato di software degli ESC perchè non è possibile cambiare il verso di rotazione dei motori direttamente da Betaflight. Una volta individuato il motore del quale vogliamo cambiare la rotazione, possiamo procedere. Disaldiamo due cavi e li risaldiamo invertiti. Se i fili sono collegati direttamente agli ESC 4 in 1, il procedimento è lo stesso. Risaldiamo due cavi e li risaldiamo invertiti. Il secondo metodo è agire via software e dare il comando REVERSE direttamente dalla BLELiSuite. In questo caso dovete scaricare la suite adatta ai vostri ESC, quindi verificate se i vostri sono BLELiS o BLELi32. Trovate il link per scaricare la suite in descrizione. Quando agiamo sulla configurazione degli ESC è necessario collegare la batteria, per questo motivo è importantissimo rimuovere le eliche. Colleghiamo la batteria e inseriamo il cavo USB. Avviamo la suite adatta ai nostri ESC, nel mio caso uso la suite BLELiS, ma il procedimento è identico se usate la suite BLELi32. Per prima cosa andiamo in questo menu a tendina e verifichiamo che come bootloader sia selezionato CleanFlight, Betaflight. Dopo scegliamo la porta COM relativa ai nostri ESC. Quindi clicchiamo su READ SETUP. Clicchiamo su OK. Ora possiamo cambiare il verso di rotazione, ad esempio io voglio cambiare il senso di rotazione del motore numero 3. Quindi mi posiziono in questi box ed eseriziono i motori numero 1, 2 e 4 facendo in modo che rimanga solo il numero 3. Adesso vado in Motor Direction, clicco qui e do il comando REVERSE. Quindi clicco su WRITE SETUP per salvare la configurazione. Se voglio cambiare il senso di rotazione di un altro motore, ad esempio il 2, faccio lo stesso procedimento, deseleziono 3 e seleziono 2. Quindi anche per il motore numero 2 do REVERSE. Anche in questo caso do WRITE SETUP per salvare la configurazione. Quando abbiamo finito possiamo cliccare su DISCONNETTI. Questo era il mio tutorial su come invertire il senso di rotazione dei motori del nostro drone FPV. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.